Ai disagi vissuti quotidianamente dagli automobilisti sulla A9, l'Ainatico Mocchiasso per i lavori nella Galleria Sanfermo, che provocano lunghe code soprattutto nelle ore di punta, si sommano quelli di un'altra settimana di chiusure notturne annunciate dalla società Autostrade. Per consentire lavori di assessment delle gallerie dalle 22 di oggi alle 5 di domani 10 ottobre, nelle due notti di mercoledì 11 e giovedì 12 ottobre e nelle due notti di sabato 14 e domenica 15 ottobre, sempre con orario 22.05, sarà chiuso il tratto compreso tra Comocentro e Chiasso verso il confine con la Svizzera. In alternativa tutti i veicoli dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Comocentro dovranno percorrere la viabilità ordinaria dunque via Cecilio, via Pasquale Paoli, via Napoleona, via L'Innocenzo XI, via Borgovico e via Bellinzona fino a raggiungere la Dogana Cittadina. Saranno inoltre chiusi il tratto compreso tra lago di Como e l'allacciamento con la A59 tangenziale di Como verso l'Ainate e lo svincolo di Comocentro in entrata in entrambe le direzioni, l'Ainate e Chiasso. Gli stessi tratti saranno chiusi per consentire il transito di trasporti eccezionali dalle 22 di domani 10 ottobre alle 5 di mercoledì 11 ottobre e dalle 22 di venerdì 13 alle 5 di sabato 14 ottobre.